In via Lunigiana tutti e 57 i seggi che saranno utilizzati per il voto delle primarie domenica prossima sono stati approntati e a breve arriveranno a destinazione. Il segretario provinciale Jacopo Montefiori esprime soddisfazione ed invita tutti gli elettori del PD ad andare a votare. Più di 200 persone impegnate già ora in questi giorni, in queste settimane, ancora di più nella giornata di domenica. Si vota dalle 8 alle 20, sarà necessario per votare recarsi al seggio portandosi dietro il documento di identità e della tessera elettorale. Abbiamo elaborato questo manifesto aggiungendo uno strumento, quello del QR Code, inquadrandolo negli spazi dove è stato affisso. Sarà possibile per chiunque rintracciare velocemente il seggio dove poter esprimere il proprio voto. Siamo fiduciosi che sia domenica prima di tutto sarà una bella festa per la democrazia. Se i sondaggi nazionali riportano in vantaggio Stefano Bonaccini, a Spezia dovrebbe prevalere invece Eddie Schlein. Qualunque sarà il nuovo segretario del partito, questa scelta segnerà i destini del PD. Non c'è dubbio ma, ripeto, una giornata importante proprio per il futuro del PD e io credo non solo per tutto quel popolo che vede la possibilità di costruire un'alternativa credibile col tempo che sarà necessario al governo delle destre, della Meloni, al governo più di destra della storia repubblicana che già ora ci preoccupa su tanti aspetti. Ripenso un dato su tutti, per la prima volta dopo tanti anni siamo di nuovo scesi sotto quella soglia così importante del 7% del PIL sulle risorse stanziate per la sanità.